Meravigliosa giornata a tutti voi! Oggi siamo irradiati da una favolosa poesia di Carlo Uetila, San Giovanni Paolo II, splendido e carismatico Papa, traboccante di profondità e acume teologico, uomo di ardente e sfavillante umanità e sensibilità, e anche straordinario, raffinato e luminoso poeta, chiamato affettuosamente dalla sua famiglia Lolek. In questa lirica di candido afflato poetico, l'autore esalta dolcemente l'innocenza, il fascino e la purezza di sentimenti ed ideali dei teneri e adorabili fanciulli, che inevitabilmente crescono e vagano per i sentieri e le strade del mondo, alla ricerca del loro destino e del loro anelito di felicità palpitante. Carol, con tenerezza infinita e paterna, si domanda se i valori e i principi della nobiltà d'animo e della rettitudine splenderanno nei loro cuori impetuosi e intensi, e se sapranno distinguere e separare il bene dal male, poiché solo nel bene supremo potrà brillare la loro sete e il loro desiderio di limpida felicità. Anche noi, accarezzati da questa sacra aureola di dolcezza, ritorniamo magicamente fanciulli nel cuore e nell'anima. Fanciulli di Giovanni Paolo II Crescono improvvisamente dall'amore e poi di colpo adulti, tenendosi per mano, vagano nella grande folla. Cuori catturati come uccelli, profili sbiaditi nel crepuscolo. So che nei loro cuori pulsa l'intera umanità. Tenendosi per mano, siedono zitti sulla riva un tronco d'albero, terra al chiaro di luna, triangolo che arde. Nel sussurro incompiuto non si è ancora levata la nebbia. I cuori dei fanciulli in alto, sopra il fiume. Sarà sempre così il manto quando si alzeranno di qui e andranno via? O altrimenti una coppa di luce, inclinata tra le piante, in ognuna rivela un fondo ancora ignoto. Quello che in voi ebbe inizio, saprete non guastarlo? Separerete sempre il bene dal male? Vi ringrazio della vostra angelica attenzione. Grazie. 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 Grazie.